Cosa ci faccio in un bagno alle 3 di notte prima di iniziare questo video? Bella domanda Beh ragazzi, questo è mio Bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale Oggi andremo insieme a vedere la reazione ai momenti migliori dei mates in social phase 2 Non volevo usarli proprio tutti quanti Quindi mi sono tenuto un paio di chicche per un prossimo video Se volete vedere mi raccomando spolliciate immediatamente Arriviamo a 45.000 mi piace Oggi mi sono svegliato e volevo 45.000 mi piace a caso Noi ci siamo divertiti tantissimo Vi divertirete sicuramente un casino anche voi Ma non ho nient'altro da dire E buona visione Let's get together Let's get together in the sun Cause in the darkness in the night Everybody seems to die Tell me if you want to see the light Tell me if you want to see the sunshine in your eyes Let's get together Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Se io prendo il bicchiere di Ross C'è un punto E ti chiedeva su di che Fare il canestro in testa e si sceglie Rosalba che Vabbè Il canestro smontato Eravamo io e qui Rosalba Ci sono anche io Io non ci sono La combinazione giusta sarebbe stata Io Rosalba Tu Suri No No la combinazione giusta sarebbe stata Che ci fosse stato io Ma stai Ma stai No Nonostante questo sbagliava Cosa ero Quanto sei sadico Dai Visto Doveva saltare Attenzione Guardate la mia E così è il primo punto No Ma quella è la tempra di Giovanni Mucciaccia Oh no aspetta Potevi abbassarti un po' Ragazzi c'era un problema Perché Ragazzi un secondo Il problema è che sembrava colore tempera Invece c'era qualcosa in più all'interno C'era la panna È entrato Sì È entrato Aspetta fermi Non ti muovi È entrato Io c'è una paura in me Guarda che infame Guarda È arrivato il rabbino Vedi che è infame Ma che schifo È una panna scaduta Alla fine Per quanto io potevo vincere Mi sporcavo sicuro Anche con le Comunque Papà ma ti sei muoveso come l'uomo erectus Eh Dovevo fare piano Perché Rosalba Se si non si muove Guarda Rosalba che si allontanava Oh mio dio Stai per ammazzato No Dici di giocare sporco Giochiamo sporco per me No Cosa parli Che infame Ma in metà l'ha lanciato Sì L'altra in metà però no Che schifo Annusa Ultimo punto vincere Senti che schifo Fai il rosa Vai Annusa Eh Oh mio dio Sei un infame Ma che ho fatto Che ho fatto Prendiamo l'ultimo Che ho vinto Calma Il tiro della vittoria No Guarda quanto mi sono abbassato Guarda È vero Rossa passa il volo Serma Ha cercato di prendere al volo Di quella ballena C'erano quasi riusciti Oh Ora calcio Guarda Stefano infame Guarda Stefano infame Nel dubbio per non sporcarti Ma perché anche Sorri Cosa c'entrava Io in questo scappato Rosalba li avete fatto I fame Stefano Rosalba nei rovesciati Abbiamo vinto noi Un toto spiacciato Ti vesti come tanti anni fa Papà Quando schiocca le dita Papà Fa comparire Le schifezze nei drink Eh È una cosa che Aspetta Ma che Cavoo Posso tenerle papà Grazie Fermi tutti E questa è la vostra Mi sarebbe piaciuta La magia qua Bello Sapete cosa manca in questa challenge Ma cos'è per io Era buonissimo Ah no Dio Che schifo No allora ti ricordi Quest'ora c'erano dei gusti Che erano veramente terrori Che schifo Il culo verde secondo me era buono Ma l'è la sta cosa da qua dentro Senti un po' di liquidizia Può essere Assolutamente no Apprezziamo il tentativo Ma che la fa bevuta la papà Chiediamo Senti tutti È la morte È la morte È la morte È la morte Guarda qua come aiuta Stefano Papà mi vuole bene Non puoi farlo Caffè Boom Incredibile La menta Come hai fatto a indovinare Che c'è la menta Non è possibile Lui Caffè Qui sa le cose Dai il più bello di tutti Sembra Il più bello Il più bello di tutti Si sapeva di olio Sembrava olio del motore No zio è urina Fa molto più schifo Come Vai 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 Non l'ha neanche assaggiato È partito E che ne so Con l'ansietta Ha detto che c'era il pecorino all'interno Allora Sembra male Questo è quello lì Che è bellissimo Questo è la schiuma raga sopra È buonissimo No no Questo era buono raga È buono Dalle facce proprio Limone Good Good È la versione d'inglese Di social media È doppiato in realtà Siamo qui a doppiare Certo che a te va sempre il meglio eh Surry Tanto non le indovina uguale Surry fermo Ti do la possibilità di vincere se indovini almeno un ingrediente Fagiolini? No mi spiace Erano cetrioli Succo d'ananas e papaya Ma ciò la metti con sta papaya Chi l'ha mai mangiata la papaya? Surry secondo te cosa devi fare in questa sfida? Devo mangiare ste cose però che schifo Che ti bevi un litro di salsa di soia? Salsa di soia? Sushi E' un temachi brasiliano Esatto Raga ma ci stanno dimenticati il Philadelphia Quello che fa da collante Dolino ci sta Era ancora Manca la collante La Philadelphia Totto il dente Totto il dolore Non sei rimasto calvo? Ah no già lo sei Ma non manca qualcosa Sì manca decisamente qualcosa Mi esce la soia dal naso E mancava il wasabi Magari se ne l'ho dimenticato boh Devi chiudere gli occhi No Mi dissocio da questo Oddio Oddio gli occhi Oddio stai arrivando a bruciare gli occhi Papà visto che sei un padre disgraziato e mal organizzato Adesso ci fai la spesa a tutti Papà io ho fatto la vibrazione Chi è il tuo figlio migliore? Lei mi ha dato la scossa Ah chi è il migliore? Quindi devo fare la spesa mentre mi date la scossa? Esattamente Eh è semplice no? Vado a fare la spesa Detersivo per i piatti Papà la pasta di manca Oh Oh Striggered Papà il tuo Piaddi anni fa Isascia 98 92 No a 9 9 Quanti? 9 9 9 9 9 9 Non mi credo Ce l'avevi tu Stai con la tua telecomandina Spami Jane ce l'aveva Bastardo Non ero io Non ero io papà Ciao 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 è finita la benedezza si è finita stai per fare un bungee jump questa è una vera fobia non un'altra cosa vuol dire la fobia ognuno ce l'ha una le vertigini se non vedi che vertigine è si perchè io gli dicevo abbassati che c'è un ostacolo quello lì ragazzi è un produttore del programma ma io non lo conoscevo la sua voce l'avevo mai sentita mi sono caduto e mi sono fatto male il salto non è bassissimo però non ti dico di quanti metriè va bene? ok mi hanno detto che potresti voler cambiare idea non c'è questo vi giuro ci lancia rivedere scusa ho sto gomito tra l'altro ho fatto un lancio due settimane fa ho sbattuto il gomito e l'ho rotto ma guarda che ti arriva le mani così non lo farò mai ma si è che lo fa a scaso mi ha detto lì braccio di ferro di tenere le mani così allora se sei pronto andiamo vuoi cambiare idea? io non posso prendermi questa cenza ok allora mi hanno detto non hai le corde belle gà senti senti guarda eh è brutta uno stringi questa corda divertente giochiamo col cuore degli altri vai sei diventato un peperone abbiamo i milioni di iscritti c'eravamo quasi a prima stai scolando il cuore qualcuno in gola qualcuno in gola 3.000 manco la Ferrari cosa che suda anche non sa fare niente guardalo ti lasci andare completamente va bene? 3 2 1 vai faccia il face faccia il face faccia il face dai questo è ho sentito l'acqua ho detto vabbè questo è il paradiso però siamo stati buoni perché non l'hai fatta veramente non l'ho fatta veramente ma per me è come averla fatta no 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 e invece si magari social face 3 la fai veramente dai io penso che finisce questo best moments dei mates vi invitiamo quindi ad un prossimo episodio e ciao go go ogni volta che lo guardo mi sembra di vivere le stesse sensazioni e non è molto carino comunque nel prossimo vlog che vedrete dal Portogallo è successo questo vedete la mia schiena vedete il mio culo ecco mi sono ustionato grazie a tutti i nostri spettatori